Allo stadio Maradona è scontro diretto per il sesto posto, che significa accesso diretto all'Europa League, ma in palio ci sono anche punti per una rimonta legata ai posti Champions. È sfida tra Napoli e Atalanta. I Lombardi partono subito forte e Mirancuk sfiora in vantaggio, siamo al secondo minuto della gara. Al diciottesimo minuto, pericoloso il Napoli con Osimène, servito all'altezza del dischetto di rigore colpisce di testa ma è troppo centrale. A passare in vantaggio sono gli ospiti, al venticinquesimo si sblocca la partita, è una dormita colossale da parte della difesa del Napoli, una serie di colpi di testa, assista al bacio di Pasaric, il pallone finisce nell'aria piccola ad insaccare la rete di piatto e Mirancuk. L'attaccante russo con una rete ha concretizzato la buona fase offensiva della Dea. Minuto 44 c'è il raddoppio dell'Atalanta con Scamacca, il Napoli perde palla poco più avanti della trequarti campo, Mirancuk in becca è il compagno di reparto che centra l'angolino basso di sinistra e nulla da fare per Meret che non riesce ad evitare il doppio svantaggio sul gong della prima frazione di gioco che si chiude dopo un solo minuto di recupero. Un clamoroso doppio palo del Napoli al 55esimo, occasione d'oro sprecata da Piotr Zilischi che prende solo il palo ma si fionda ancora una volta sul pallone Osimène che colpisce anche un altro palo, stavolta determinante la deviazione di Carnesecchi. Pubblico incredulo, Lukman al 78esimo circa il terzo gol ma non riesce a centrare la porta sotto la traversa, non si fa trovare impreparato Meret. Poco dopo dall'altra parte ancora Carnesecchi per due volte dice no a Osimène, prima un raso terra allontanato con i piedi, poi su un'altra conclusione ci mette il guantone. A due minuti dal 90esimo arriva il 3-0, con il sinistro sul pallo lontano sigla il suo undicesimo gol stagionale, principale marcatore dell'Atalanta e Copminers pescato benissimo da Ruggeri, stende il Napoli di Calzona. Lo stadio fischia in modo pesante gli azzurri, i cinque minuti di recupero servono solo a svuotare il Maradona. Grazie.